ciao gamone io direi bentornato sanremo eh grazie grazie bello ritornarci bene 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 ma come ti stai avvicinando al festival ci sono dei riti scaramantici cosa stai cosa stai facendo anche per per conservare la voce nel miglior modo possibile un sacco di tamponi quello tutti i giorni anche più di uno al giorno ogni tanto ogni tanto se nel dubbio ne faccio uno a parte gli scherzi a parte le battute diciamo c'è una fase preparatoria anche bella come quella di contare anche virtualmente i giornalisti un percorso insomma di preparazione della canzone preparazione fisica si fa tutto quello che si può in questi giorni c'è anche il sole quindi diciamo anche l'umore è cresciuto e non vediamo l'ora di partire anche perché in gara sanremo porti una canzone che stilisticamente è davvero incredibile un pezzo in cui c'è tanta contaminazione e dove vivono in maniera armonica diversi stili ma te quali sensazioni evoca questo pezzo che dove tra l'altro c'è un testo dove parla molto bene che descrive molto bene un certo tipo di realtà è un miscuglio di tante cose diverse in effetti di cose che mi hanno influenzato come ascoltatore è un pezzo molto carico molto energico pieno di vita in realtà io dico perché è di luce è un pezzo in realtà che non vedo l'ora di performare dal vivo perché quando l'ho scritto ancora non pensavo neanche a sanremo ma poi me lo sono immaginato su quel palco e ho pensato che ecco è uno di quei pezzi che sta bene cantato dal vivo urlato gridato la squarcialola a me è piaciuto moltissimo proprio l'approccio che è totalmente libero e in particolare il bridge in cui canti non mi sento secondo nessuno e tra l'altro in quella parte c'è una componente molto forte legata al gospel sì è vero è vero è una delle tante cose insomma che cerco di spaziare tu lo sai insomma nei dischi cerco di muovermi in una serie di territori il gospel è una musica a parte cioè a parte legata alla alla parte diciamo religiosa è una musica che vibra proprio di energia vibra proprio di di emozione di trasporto e quindi questo pezzo c'ha quella quella componente quella vibrazione certo ma parlando invece del disco anche in questo caso ci sono molte influenze un disco che si può considerare anche più corale rispetto rispetto al precedente e colpisce proprio perché nato in un momento di isolamento com'è andata è andata che io finito l'altro disco avevo voglia di farne subito un altro proprio molto spontaneo non sapevo cosa sarebbe successo ma avevo voglia e quindi a quel punto qualcuno dei miei diciamo dei ragazzi della mia band con cui non potevo neanche insomma vedermi di persona e qualcun altro che è arrivato nel frattempo altre persone come Simone Primiterra che ha prodotto il disco con me ragazzi giovani con una grandissima voglia si è composta una squadra che pochi mesi prima non c'era sono le opportunità che il lockdown ci ha dato di unirci anche con persone che non conoscevamo neanche prima magari con la scusa di internet e poi ci siamo vestiti al vivo ed è nato un disco intero in poco tempo un disco di cui sono molto fiero soprattutto di quello che hai detto tu della coralità del lavoro di squadra un disco di mio cioè in cui io sono la faccia la voce e ho scritto diciamo le parole della delle canzoni per un disco fatto tutti insieme sì perché è un lavoro di gruppo ma che comunque ti ha coinvolto in prima persona in ogni fase del lavoro sì diciamo che dopo sette dischi più due p più due mixtape diciamo che siamo oltre i dieci lavori ho un po le idee chiare diciamo su come voglio il vestito che mi devo portare addosso quindi sono stato diciamo anche presente nella fase della produzione veramente ogni singolo dettaglio sono stato attento a curarlo però ripeto altrimenti me lo potevo far tutto da solo se era così non ci sarebbe stato il disco se non ci fosse stato il confronto e la costruzione giorno per giorno insieme a una squadra di persone io credo che il senso di tutto il progetto si possa vedere lo si possa racchiudere anche in quella che è la copertina perché c'è un gatto che sappiamo un animale dolcissimo ma allo stesso tempo che sa graffiare quindi farsi rispettare il gatto poi ha sette vite nel disco ci sono ben più di sette generi musicali è vero è vero un bel era un animale totem in questo caso un bel riassunto ed è anche un è un animale che non cade sempre sulle sue zampe quindi metaforicamente parlando significava tante cose in più nell'epoca della musica in streaming dove la copertina è la copertina con la faccia e non basta che si veda la tua faccia grande e il tuo nome tanto lo si legge dai crediti dello streaming metterci dentro un'immagine che ti fa fare una domanda a te ascoltatore era una delle cose che mi interessava ti fai una domanda ti chiedi perché dice mi piace non mi piace insomma ti rende parte attiva del discorso certo certo ma tra l'altro io un rispetto per esempio al precedente scritto nelle stelle io ho trovato proprio un'idea di futuro ben più marcata un'idea comunque di speranza nella vita sappiamo tutte quelle che sono difficoltà e quelle che possono essere difficoltà però io credo che visto anche il periodo in cui è nato ci sia la volontà di andare oltre la volontà di guardare avanti leggendosi dentro chiaramente sì il passato adesso diciamo è una cosa che mi interessa un po di meno sono più appassionato del futuro che si costruisce dall'oggi ovviamente sono anche uno abituato molto a programmare a pesare le cose quindi nel disco c'è c'è un'idea importante di futuro anche accenni a cose che potrebbero capitare in futuro musicalmente che si possono sviluppare da questo punto di vista diciamo il disco mi è servito come banco di prova per per capire cosa può succedere dopo quali sono i punti di contatto rispetto a scritto nelle stelle e rispetto a scritto nelle stelle diciamo questo è in realtà è un'altra pagina proprio eppure sono molto vicini sono molto molto vicini a livello di tempo veramente ho iniziato a scrivere questo tre mesi dopo che avevo chiuso l'altro però sono due rischi profondamente diversi nella nella maniera in cui sono stati concepiti e gli voglio bene a tutti e due a dir la verità anzi mi auguro che essendo così ravvicinati e quindi anche nuovi e le persone scoprendo uno riscoprano anche l'altro io sono molto appezionato scritto nelle stelle di dico la verità però non sembrano due dischi consecutivi secondo me appunto sono sono due lati di di te non dico posti perché sicuramente non lo sono possono essere consecutivi ma che secondo me appunto non 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 mostrano il fatto che è passato solamente un anno tra uno e l'altro sì effettivamente sì ti ripeto probabilmente scritto nelle stelle erano una degna una degna conclusione di un'opera precedente questo invece è una è l'apertura di un altro libro sì ma secondo me sì e poi appunto diciamo che questo momento di chiusura in qualche modo può essere stato rappresentato anche da quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno comunque un nuovo una nuova consapevolezza nonostante anche scritto nelle stelle fosse un disco molto consapevole sì 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 però ecco questo questo periodo ha portato proprio altri pensieri altre riflessioni altre leggerezze anche altre speranze altre cose quindi sono tutte confluite nel disco cioè abbiamo potuto vivere poco in socialità ma non questo non vuol dire che non sia stato un anno intenso stato un anno intensissimo quindi in realtà volendo di cose da dire ce n'era no è per questo ci ho fatto un disco io cerco sempre quella canzone che come si diceva una volta vale l'acquisto del disco questa volta l'ho individuata in tromdeville che secondo me è un pezzone un pezzone incredibile che come dire fa è un cuore è un pugno allo stomaco in tutti in tutti i sensi grande è un pezzo a cui voglio particolarmente bene poi ogni artista diciamo il disco ogni disco ne ha uno un pochino più a cui è più affezionato per motivi personali è un pezzo molto molto spontaneo nato in maniera molto spontanea proprio da due accordi e le parole del ritornello già canticchiate con quei francesismi dentro ed è bello c'è una di quelle situazioni in cui cogli l'attimo è un pezzo che è nato perché abbiamo colto l'attimo e c'ha dentro cose che mi c'è c'è il rap c'è il groove c'è mare in vivo l'endo ci sono tante cose bellissimo grazie mille gamo buon festival di sanremo viviamo riviera anche se virtualmente a presto grazie